Fai lì, fai lì la foto. Eh, sto facendo un video. Lui hai filmato. Sto già facendo. Te. Eh. Te l'ho mandato se ti hai portato via. Che cosa che gli hai dato? Questo. Sì? Guarda qui. Guarda quanti. Guarda qui qua è. Amore. Vedi che stanno vicino a noi, non hanno paura. Eh, vedi a dire no. Eh. E come cerchi di fare nello scherzo. Eh, c'è questo. No, non ti faccio niente. No, non ti faccio niente. No, non ti faccio niente. So. No. No.